Tanto per cambiare un altro record battuto, il calciatore meno giovane che ha fatto gol nella sera della Champions, hai battuto Ryan Hicks, non mi dire che non hai riconosciuto di questo record. No, sinceramente non ci pensavo, come ho sempre detto non so più la squadra che a me stesso, ma è sempre stato il mio forte. Poi è normale che quando la squadra ti aiuta a fare gol, arrivano anche i record personali, ma quindi passa un secondo piano. L'hanno chiamato la leggenda anche qui in Inghilterra, Francesco Dotti, l'abbiamo sentito lì a voi Maurizio.